Spettacoli, escursioni e tante prelibatezze di stagione. Petralia Sottana vi aspetta dal 28 al 30 ottobre con la festa dei sapori madoniti d'autunno. Vieni a trovarci a Petralia Sottana per scoprire i sapori del territorio. Dai salumi alle conserve, dai formaggi alle carni, dai dolci ai liquori. Vieni ad assaggiare le madonine e scopri le bellezze di Petralia Sottana con escursioni, mostre e visite guidate. È un evento dell'Associazione Comunale Commercianti, sostenuto dal comune di Petralia Sottana. Per tutte le informazioni visita i nostri social.